E' tempo di bilanci per le tenute di Fraternita, è stato un anno da incorniciare, diciamo soprattutto per l'olio ma anche per il vino a quanto mi risulta vero? Siamo molto soddisfatti e teniamo molto a comunicare a tutto Arezzo che l'attività di tenute di Fraternita è positiva, ha un bilancio positivo, abbiamo avuto un allargamento di prodotti dal vino, dall'olio, dalla frutta, dai grani antichi, dalle farine, al miele e a tante altre iniziative compreso anche l'aceto. E lo zafferano. E anche lo zafferano che è un fiore straordinario e bellissimo. Tutti questi prodotti noi li vendiamo alla città di Arezzo, il luogo della qualità e sicurezza nutrizionale della Fraternita che è un patrimonio di tutti. Ma li vendiamo anche all'estero. Siamo andati in Vaticano, portiamo il nostro olio, il nostro vino, i nostri grani, la nostra frutta in Vaticano come in altri paesi europei. Insomma grazie a voi della vostra attenzione verso tenute di Fraternita. Simone Fratini, agronomo della Fraternita. Allora, il rettore Pierluigi Rossi ha parlato di estero. Quali sono i paesi dove esportate? Noi diciamo che il principale mercato nostro è l'Oriente. Abbiamo una forte presenza in Centrasia, in Kyrgyzstan, poi vendiamo in Giappone, vendiamo in Vietnam, come diceva il nostro rettore, e per la prima volta anche in Australia. Oltre che poi abbiamo i mercati europei che vanno dalla Germania al centro Europa e anche in America dove siamo presenti in California. E poi da ultimo la curiosità del Vaticano, come ci tiene il nostro Presidente a dire. Abbiamo cercato nuovi mercati attraverso, partecipando alle fiere classiche, fiere Vin Italy, saremo al Pro Wine prossimo, siamo al Buy Wine a Firenze, e siamo stati in giro un po' per il mondo, con i colleghi in Oriente, in Vietnam, per cercare sempre nuovi mercati e portare oltre che i prodotti aretini anche la storia di Arezzo in tutto il mondo. Arturo Ghezzi, Rettore Deputato all'Agricoltura della Fraternità dei Laici, quante volte l'abbiamo vista sugli alberi di oliva a tirare giù gli olivi? Allora, qui teniamo l'olio extravergine di oliva. Biologio, chi è andato a ruba? È un'annata difficilissima, sfida nella sfida, quest'anno sia per l'olio che per il vino. Ci terrei a dire che quest'anno, 2023, un'annata che, lavorando col biologico, è stata particolarmente impegnativa. Per l'olio purtroppo c'è stata una gelata tardiva che ha eliminato gran parte del prodotto, ma il resto l'abbiamo salvato tutto. Nell'uva siamo riusciti a salvarlo veramente tutta, al 95%, con conduzione biologica, che penso siamo stati due o tre aziende in tutta la provincia di Arezzo solamente a vincere questa difficile sfida del 2023. E per cui anche quest'anno gli esami non finiscono mai, ma siamo andati in fondo. E per cui anche quest'anno gli esami non finiscono mai, ma siamo andati in fondo.